No, vi ringrazio tutti cari amici che siete venuti, cari amici e compagni. Vi volevo dire che i soldi che avete dato, lotteria, vengono tutti mandati a questo progetto di solidarietà col centro per anziani a Colonna, dove sei stato anche te Iula, no? È dal 2004 che questa associazione Italia Cuba, il centro della Toscana, lo aiuta, insomma non è da ora. Ora, il progetto preciso è lungo a spiegarlo, comunque spero che vi fidiate, insomma noi certamente... L'avete mangiato a fiducia? Sì, no, no, insomma il progetto è lungo, a spiegarlo tutto è complicato, anche verranno comprati... Progetto per anziani, no? Sì, questo centro per anziani, verranno comprati oggetti, macchinari, coperte, tutta questa roba qui e... Quello che serve per l'assistenza? Eh sì, quello che serve per l'assistenza, allora sì. No, ma più c'è anche roba per i computer. Eh, roba per i computer, sì. Ovviamente è un contributo. È un segnale, è un segnale che si dà, certo non è che si può risolvere noi problemi, quello è chiaro. Però è un bel segnale che, insomma, se tutti fanno come noi, basta essere una... insomma, non sarebbe male. E si costa di 10.000 euro in tre anni, 3.000 euro il primo anno si sono già stati dati, questo qui che si fa a noi va per il prossimo anno, si spera di dare i 500 euro, perché abbiamo anche altri soldi. Insomma, poi comunque noi a gennaio-febbraio si fa il bilancio e tutti possono vedere i soldi dove vanno, ecco insomma. E quello ci tenevo a dirlo perché, insomma, con i soldi è bene non scherzacchi, insomma. E comunque ripeto, vi ringrazio tutti. Grazie. Alla prossima volta, insomma. Va bene.